allora ragazzi ho ricevuto una telefonata da matt bettinelli olfin e da tyler gillett e praticamente non mi hanno detto niente sono stati zitti per circa una ventina di minuti ma del resto i radio silence quindi chi tace ha consente e mi hanno fatto capire che non dirigeranno scream 7 quindi io giro questo ennesimo video dopo che ieri proprio sul canale è uscito il mio commento sull'indiscrezione che voleva christopher landon al timone del settimo capitolo della saga notizia confermata non ho fatto a tempo a parlarvi dei rumor che adesso è certo christopher landon benvenuto a bordo continuo a sostenere per chi non avesse visto quel che ho caricato ieri che sia comunque una notizia positiva non voglio avere risentimenti i radio silence mi han colpito tantissimo e anzi avrei voluto che continuassero perlomeno per un'altra pellicola per concludere una nuova trilogia però mettiamoci nei loro panni stanno lavorando al film dell'universal sui mostri dovrebbero realizzare il reboot di fuga da new york di john carpenter metterci dentro anche scream 7 poteva essere indigesto certo mi auguro che la motivazione sia questa e cioè il troppo lavoro e non che chi lo sa non fossero fiduciosi sulla realizzazione di un ulteriore capitolo che non apprezzassero magari l'ipotetica idea di base per questa nuova continuazione mi auguro che i motivi siano puramente lavorativi però fatemi dire che vestiranno i ruoli di produttori da quel che ho letto quindi già questo dovrebbe farci capire che in un modo in un altro siano a bordo del progetto e christopher landon come già vi ho specificato è un regista che per me abbraccia benissimo lo spirito della saga di scream del resto se aveste visto auguri per la tua morte già quel film si proprio dichiarava anche un omaggio grandissimo allo slasher ma per di più a scream se poi aveste visto freaky c'è quell'inizio che mi ricordo una volta in sala di tempi a guardarlo pensai cavolo ma christopher landon sarebbe perfetto per la saga di scream e quindi sicuramente hanno scelto un regista competente e capace non ho ancora visto il suo ultimo film però abbraccia totalmente lo spirito del franchise in questione notizia quindi certa scream 7 si farà non ci sono ancora ufficialità su chi del cast tornerà non tornerà ne parleremo in appositi video quando ci saranno nuove indiscrezioni e conferme beh sicuramente melissa barrera genna ortega va da sé che tornino sarebbe assurdo nel caso non accadesse resta da scoprire se sydney prescott gail weathers insomma il cast storico neve campbell cartney cox se il cast storico tornerà oppure no perché ormai loro due sono rimaste le donne quindi sarà molto 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 interessante ma innanzitutto fatemi dire che la notizia più bella è quella relativa alla conferma di scream 7 poi vedremo christopher landon va bene lo stesso anzi vi domando voi nonostante il dispiacere per i radio silence che posso capire lo comprendo lo comprendo assolutamente anche per anche perché loro nelle interviste avevano detto fino a che ci saranno storie interessanti da raccontare ci saremo per questo avevo paura che il motivo potesse scindere dal lavoro opprimente però però se rivestono i ruoli di produttori già questo mi fa comprendere che allora possa esserci un motivo più che sensato cosa ne pensate di christopher landon attendete scream 7 cosa potrebbe succedere in scream 7 tra l'altro io ho qualche nuova teoria che vorrò registrare in altri video ma beh oggi beccatevi la conferma ufficiale scream 7 si farà christopher landon cosa succederà nel film chi lo sa quando sapremo qualcosa in più sarò qua pronto a parlarvene un caro saluto ragazzi noi ci vediamo ad un prossimo video non si sa quando avremo notizie certe in più ma quando uscirà qualcosa io sarò pronto a comunicarvelo nel frattempo non perdetevi domenica la classifica giornata dei film della saga di scream dal peggiore al migliore se invece vi abbonaste già lo potreste vedere perché chi si abbona ha dei vantaggi in più come il poter vedere video in anteprima videochiamarmi chiedermi video di film da recensire fare live apposite con me sul mio canale e tante altre succose cosine vi abbraccio vi bacio viva scream io telefono un'altra volta e radio silence pronto radio silence grazie a voi Grazie a tutti.